E la chiesa era una chiesa che c'erano sempre cresime, si faccia sempre anche i pranzi, aiutava a fare i pranzi per quando veniva il vescovo, voilà. La chiesa di Loreto mi stava dicendo che è terremotata, quindi è inagibile. E purtroppo sì. E me la racconti un po' un attimo la storia, quello che succede? La storia è che la sovrintendenza ha fatto parecchi sopralloghi, saranno venuti 50 volte. Il problema è che avevano stanziato i soldi, non me li ricordo, la cifra stabilita, che poi hanno cominciato i lavori, hanno risistemato la facciata esterna, poi i soldi hanno servito da un'altra parte e questa è rimasta così e non c'è una via giusta per poterla... Questa andrebbe risistemata, bisognerebbe trovare un sistema per poterla... Anche perché questa è una chiesa importante, mi diceva... È del 1200 e poi uno che ci ha dato la tessi ha detto che è stata iniziata, ha trovato dei incartamenti a Perugia, perché è stata iniziata nel novecento, non nel 1200. Quindi prima... Il 1200 sarà quando è stata... Ultimata. No, la finitura, diciamo. Sì, sì, c'è del senso quando è stata conclusa, perché è stata fatta in più fasi, mi diceva. Eh, sicuro. Ha capito? E quindi servirebbe di risistemarla? L'intervento per qualcuno... Lanciamo un appello. E se qualcuno volesse contribuire a poter sistemare la chiesa, non sarebbe niente male, insomma. Sì, no, farebbe un'opera buona. Ecco, non è che c'è standa di questa gente che pensa dei fatti di altri. La ringrazio.